Uno dei nostri cocktail preferiti è un vecchio classico che è il margarita, un cocktail messicano fatto come base con la tequila. Il margarita è un cocktail che viene preparato nello shaker e viene servito in un bicchiere il cui bordo è ornato di sale, è molto kosher, è un sale minerale comunque, non sale marino e ha dei grani, dei cristalli un pochino più grossi che danno quasi un affreddo di fiocco di neve e come coreografia sono molto meglio il sale marino in quanto ha dei grani molto più sottili che non si notano, invece questi sono carini perché adesso sono un po' inumidito il bordo del bicchiere, però quel carini è perché spicchiano come i fiocchi di neve, è molto kosher, è molto kosher, si prende una fetta di limone, si passa sul bordo del bicchiere e poi il bordo viene sparse di sale. Come strumento ci sono lo shaker, si sciacquano in il bordo del bicchiere, si prende un terzo di succo di lime, un terzo di qualtrò e un terzo di tequila. Allora Allora Allora